Rocca Costanza, scena aperta, torna per il secondo anno ad animare l'estate pesarese in uno dei luoghi più suggestivi e amati della città. Dal tango alla filosofia, dal teatro per i ragazzi alla danza, dalla musica pop alla classica, si preannuncia ricco e variegato l'intenso programma che vivrà di cultura per 35 giorni, dalle 29 giugno alle 27 settembre, su iniziativa del comune di Pesero, in collaborazione con Amat e grazie allo sforzo congiunto di numerose realtà del territorio che operano a livello culturale, ente concerti, orchestra sinfonica Rossini, l'angolo della posia, pop Sofia, Darkest Night, Promo D e l'associazione culturale Il Gioco delle Muse. Per i bambini non mancheranno le proposte di teatro e laboratori a loro dedicati. Gli appassionati di teatro e danza potranno gustare spettacoli di grande spessore. Per gli amanti della musica, nelle sue diverse declinazioni, è prevista un'offerta di concerti da non perdere. Gli appassionati di poesia e pop e filosofia, fumetto e giochi, e tutti coloro per i quali la proposta culturale rappresentano opportunità unica e rinunciabile, troveranno in Rocca Costanza Scena Aperta un'occasione di assoluto valore. Ad inaugurare il ricco cartellone saranno i concerti di Xanitalia Sinfonica 3.0, promossi dall'Orchestra Sinfonica Rossini, tre appuntamenti di grande musica e di sicuro impatto emotivo. Ai più piccini è dedicato Andar per Fiabe, l'amato festival di teatro per bambini e famiglie, organizzato in collaborazione con Amat. Pop Sofia, filosofia del contemporaneo, torna alla Rocca Costanza dalle 9 al 12 luglio. Il tema scelto per l'edizione 2015 è un celebre verso di Giuseppe Ungaretti, che descrive perfettamente la condizione contemporanea, allegria di naufragi. Tra le rassegne che scandiranno i pomeriggi e le serate delle cortile di Rocca Costanza, tornano l'Elexio Pop. Al Calar del Sole sarà invece il turno di Filo Show, spettacoli di musica, filosofia, teatro e video art. Ci sarà anche un omaggio a Domenico Modugno, il 13 luglio, con E' Uomini in Frac, primo dei quattro appuntamenti curati dall'AMAT. Un ensemble d'eccezione composto da Beppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Furo di Castri, Rita Marco Tulli, Mattia Barbieri, si confronterà con un monumento della canzone italiana in una serata dal sapore esclusivo e di grande fascino. La rassegna regionale TAU, Teatri Antichi Uniti, farà tappa con i due appuntamenti di grande riconoscibilità. Valerio Massimo Manfredi proporrà il 17 luglio Il mio nome e nessuno, l'avventura di Ulisse, il ritorno, tratto dal suo ultimo bestseller. Il 6 agosto la maestria interpretativa di Moni Ovadia condurrà il pubblico attraverso la narrazione orale del libro L'Ira di Achille in un viaggio di grande fascino nell'Eliade di Umero, opera fondante della cultura occidentale nell'ambito del progetto di Sergio Maifredi Iliede, un racconto mediterraneo prodotto dal teatro pubblico Ligore. Devo dire che sono tantissimi gli appuntamenti, 35 le giornate di animazione di questo spazio incredibile, tra i più belli davvero delle marche. Grazie a questo cortile può accogliere davvero le cose più varie. Tante sono le proposte, AMAT assieme a altre cose riporta i Teatri Antichi Uniti anche a Pesaro con due appuntamenti di grande interesse, Valerio Massimo Manfredi con una serata dedicata ad Ulisse e poi Moni Ovadia con una serata dedicata invece ad un altro eroe che è Achille nell'ambito del progetto sull'Iliade. Accanto a queste abbiamo approfittato per organizzare quelli che chiamiamo gli aperitau. In questo caso quest'anno, dopo l'esperienza fortunata dell'anno scorso, dedicheremo i due aperitivi alla conoscenza del pavimento musivo del Duomo e anche al corredo invece archeologico di Novilara. Quindi due appuntamenti importanti, non solo spettacolo ma anche un'occasione di conoscenza. E la Rocca davvero offre di tutto e di più, appuntamenti per famiglie, per bambini, grandi concerti di grande livello, penso alla conclusione del ciclo rossiniano dei Pesce de Veillesse da parte dell'ente concerti, grandi orchestre, omaggi a Mina e poi le grandi manifestazioni che sono accolte da Pop Sofia all'angolo della poesia. Insomma davvero un'estate da vivere tutta fino in fondo, fedeli anche al motto che il sindaco di Pesaro ha lanciato il sole a Pesaro e assicurato, che poi in realtà è una cosa vera, insomma un bellissimo progetto, fino al 27 di settembre. Dopo l'enorme successo di pubblico e di critica delle passate stagioni, giunge quest'anno la sua quinta edizione dal 20 al 26 luglio, l'angolo della poesia, intuizione e progetto dell'autore e regista Giuseppe Saponara, una rassegna tutta dedicata ai grandi poeti del Novecento, pensata non solo per promuovere la poesia in tutte le sue forme, ma anche per favorire l'incontro e il confronto tra cittadini e regalar loro ogni sera stupore, bellezza e spunti di riflessione. Il 29 luglio protagonista Rocca Costanza sarà la danza, in una fusione tra classico e contemporaneo, con Carmen Les Hommes, ispirato al capolavoro omonimo di Merimè, su musiche originali ed eseguite dal vivo da Pino Basile, con alcuni richiami ai brani dell'opera di Bizet. Uno sguardo femminile attraverso corpi maschili, rimetterà in scena su iniziativa dell'AMAT se interpreti, in un'alternanza di ironia e ricerca poetica. Battezzato come il palio più giovane d'Italia, o anche palio della velocità, il palio dei Braceri, quest'anno dal 30 luglio al 2 agosto, su iniziativa di Promo D, è riuscito in pochi anni ad attirare le attenzioni di un'intera città e la partecipazione è entusiasta di migliaia di persone. Un'intensa staffetta, 4x4, tra le 13 contrade cittadine. Terreno della competizione non è una qualsiasi pista di atletica, bensì il suggestivo fossato di Rocca Costanza. Prosegue per l'undicesima edizione la rassegna Interludio, a cura del lente concerti. La splendida cornice di Rocca Costanza ospiterà, come di consueto, appassionati concerti serali, mentre dal 28 al 30 agosto ci sarà l'aggradito ritorno di Pesero Comics & Games, un evento giunto alla terza edizione, promosso da Darkest Nights, e legato al gioco e al fumetto, oggi considerato la nona arte. Il 12 settembre invece è in programma lo spettacolo Emily Dickinson, John Keats, Natura e ciò che siamo, dell'associazione culturale Il Gioco delle Muse. La conclusione di Rocca Costanza a scena aperta è affidata il 27 settembre alle mille e una notte, versione teatrale di una delle più straordinarie raccolte di storia di tutta la letteratura, a cura di Link Theater e traguardo finale di un percorso della durata di due mesi di un elaboratorio di alta formazione con la supervisione artistica di Alessandro Preziosi per 20 giovani attori formatisi nell'Accademia d'Arte Drammatica e nelle scuole di teatro internazionali. Si alterneranno eventi locali e nazionali, ma la novità che da due anni partiamo avanti è quello di uniformare la comunicazione e spiegare che non sono singoli eventi slegati, ma c'è una filosofia anche di racconto di tutta la fruibilità della Rocca e che appunto la Rocca è aperta e fruibile per quasi tre mesi. Da giugno a settembre con una programmazione varia che partirà con Pop Sofia che è un appuntamento ormai solido e consolidato e fuso anche questo con l'architettura e la bellezza della Rocca oltre che la bellezza dei suoi contenuti per la stagione dell'orchestra sinfonica proseguendo con Andar per Fiabe che coinvolge grandi e piccoli con una grande qualità del racconto e degli avvenimenti. La Rocca che non nasce come teatro ma diventa un teatro estivo da cui il nome Rocca Costanza scena aperta nel circuito della rete Tau dei teatri antichi uniti che è un circuito marchigiano interessantissimo che mischia contenuti storici, archeologici, culturali con anche esperienze di visite ad altrettanti luoghi artistici della città e dei territori quindi una bellissima rete in cui essere collegati passando per l'angolo della poesia che diventa una rassegna vera e propria e continuativa di una settimana con ospiti nazionali del mondo della televisione, della musica insomma sarà una bella sorpresa e una novità di quest'anno Comics Games che sarà l'iniziativa che chiuderà idealmente la stagione dei festival poi avremo anche altri momenti ma che si sta radicando come realtà insomma diciamo così ancora non facciamo concorrenza diretta a Luca anzi anche tra i ragazzi c'è uno scambio però è una realtà importantissima per un fasce di pubblico che sta molto bene in un contenitore del 500 biglietteria unificata in realtà a molti eventi la maggior parte sono a ingresso libero però la biglietteria è disponibile comunque per le informazioni ma assieme ad Amat nonostante i produttori di contenuti all'interno della rocca saranno diversi però avremo la possibilità di un'unica biglietteria quindi un unico riferimento anche per l'acquisto di biglietti per una capienza limitata perché poi per gli spettacoli tradizionali a pagamento insomma la capienza è limitata a 600 per motivi ovviamente strutturali di una struttura bella ma delicata essendo una rocca del 500